Ciao a tutti, bentornati sul canale amoglitaliani.alexbelli, tutta la verità sul grande fratello, ecco i dettagli e le curiosità di quello che ha confessato l'artista. Il successo di un grande attore si misura dal talento e dalla professionalità con cui si differenzia dal resto degli artisti all'interno del mondo dello spettacolo. Questo è il caso del grande Alex Belli, che il pubblico ha imparato a conoscere sia nella famosa soap opera Cento vetrine e sia per quanto riguarda la partecipazione al noto reality Grande Fratello Vip. L'uomo, circa questa famosa trasmissione ha confessato una verità molto scomoda, ecco di cosa si tratta. Originario di Parma, città in cui cresce, Alex Belli è sempre stato appassionato di musica tanto che studia composizione musicale e canto recitativo al Conservatorio di Musica Rigo Boito, aggiudicandosi il diploma. Successivamente, affascinato dal mondo dello spettacolo e della radio, si trasferisce a Milano. Proprio in una via principale, viene notato da un booker della Day Fashion Model Management, inizia a fare casting, e a sfilare per alcuni brand internazionali come Ferre e Armani. Nel 2007 decide di aprire il suo studio da fotografo e videomaker, occupandosi di moda e pubblicità e si aprono nuove orizzonti per Alex, viene scelto come attore nella famosa soap opera Cento vetrine, in cui interpreta il ruolo di Jacopo Castelli. Le porte di Alex si spalancano anche verso i reality, uno dei più importanti è stato proprio il grande fratello Vip. Il famoso trio ha colpito parecchio i telespettatori, stiamo parlando di lui, Soleil Sorge e la compagna Delia Duran. Ultimamente, ha deciso di svelare un dettaglio inedito proprio sul programma, curiosi di scoprirlo? Alex Belli, svela tutto, ecco cosa ha detto l'attore.Il noto attore Alex Belli, ha continuato a dire la sua sul noto reality a cui ha partecipato qualche anno fa, lasciando ancora una volta senza parole il pubblico. Ospite di Turchesando, condotto da Turchese Baracchi, parla delle sue esperienze in TV e svela un dettaglio inedito sui reality a cui ha partecipato. Nel dettaglio, l'attore ha svelato di non pentirsi di quello che ha fatto nella sua carriera, compreso i reality, io ho fatto tanti programmi reality e molti li rifarei. Puntualizza in particolar modo sul GF, ti dico la verità. Io non rinnego mai quello che ho fatto. Anzi, come dicevo rifarei molte di queste, come l'isola, ballando con le stelle e rifarei anche il grande fratello. Però c'è un punto, questi sono programmi che io voglio fare dall'inizio. Non entro mai in corsa all'interno di trasmissioni già avviate con dinamiche in corso. Altrimenti non è il mio game.